La città di Salerno non resterà al buio e già nel corso della notte appena trascorsa operai e tecnici comunali si sono messi al lavoro per cominciare gli allestimenti natalizi che riguarderanno in modo particolare le parrocchie della città. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino dopo le critiche arrivate all'amministrazione comunale accusata di aver spento le luci d'artista per le quali è stato deciso un posticipo nella stagione primaverile quando si pensa di essere liberi dall'emergenza sanitaria e di non aver però provveduto a nessun tipo di decorazione per la città. Il sindaco ha invece annunciato questa mattina che saranno illuminate le parrocchie scelti come fulcri delle comunità ma che ci saranno anche alberi posizionati nei punti strategici del comune capoluogo grazie alla collaborazione con la Coldiretti. Già stanotte stiano lavorando gli operai del comune per l'installazione di opere d'arte luminose in prossimità delle chiese. Abbiamo fatto una scelta semplice, a Salerno ci sono numeri importanti di chiese, le adorniamo per dare un significato che si irradia a tutto il quartiere. Ci è sparsa la scelta più coerente e più logica e la stiamo perseguendo. Inoltre abbiamo insieme alla Coldiretti realizzato 12 alberi di Natale che collocheremo in punti strategici della città, quasi a richiamare simbolicamente un momento di festa nonostante tutto e guardare al futuro con un minimo di ottimismo. Un futuro sindaco che vede da oggi finalmente riaperte, finalmente lo dico per quella parte delle famiglie che chiedevano questo, la riapertura delle scuole in virtù di un miglioramento dei dati. Anche lei faceva riferimento al fatto che sta migliorando la situazione del comune capoluogo si va avanti verso la riapertura in presenza di tutte le scuole? Intanto io rispondo delle scelte che sono nella mia disponibilità. Da questo punto di vista noi abbiamo tenuto chiuse le scuole della prima infanzia e la prima elementare per un periodo di tempo ulteriore, ma è che non abbiamo trascorso a perdere tempo. Abbiamo consultato costantemente nel Dipartimento di Prevenzione dell'Asla. Insieme abbiamo costruito un'ipotesi di lavoro, abbiamo testato gli aspetti dal punto di vista statistico e abbiamo ritenuto poi utile riaprire le scuole. Poi c'è stato un infortunio dovuto a questa allerta meteo che sembrava catastrofica. Per alcune parti del nostro territorio lo è stata e quindi abbiamo dovuto richiuderle per la giornata di ieri. Noi facciamo degli atti di grande responsabilità. Le scelte che facciamo mi pesano sulle spalle come un gravame difficile da sopportare, ma io mi atteggio e mi muovo secondo un criterio morale che credo non sia discutibile. Lo dico autolodandomi da questo punto di vista. Ma naturalmente noi facciamo delle scelte razionali. L'altro giorno è arrivata un'allerta media nel pomeriggio con grandissimo ritardo. Immediatamente mi sono recato in prefettura, credo che fossero le 18, dove abbiamo tenuto un webinar con la protezione civile regionale, nazionale e quanti altri. Dopodiché sono venuto al comune, era l'immacolata, sono venuto al comune e ho convocato il COC, centro operativo comunale, dove abbiamo trattato l'argomento e abbiamo ravvisato l'esigenza di tenere chiuse ieri le scuole. Abbiamo dovuto fare un'ordinanza e protocollarla con l'assenza, c'era una giornata di feste, nel comune non c'era nessuno, ci siamo adoperati per fare in modo che questa avesse la regolarità dovuta e abbiamo fatto una scelta di responsabilità che credo rifarei ad occhi chiusi.